Bene ragazzi, luce verde, facciamolo appena. Pronto, in posizione. Sono carico. Adesso, anche io sono pronto e se falliremo sarà stato uno sforzo degno di lode. Non ci dimentichiamo di Jim King. Ok, ci siamo tutti, andiamo. Anche Gabri Costa è pronto, così se facciamo questa operazione rovina matrimoni salveremo Jim King, promesso. Grazie a tutti.